Eh sì ragazzi, il titolo l'avete letto bene, il titolo è chiarissimo, esprime un concetto molto semplice, che schifo, questa ragazzi è la partita di Genova parte 2, cambia solo la squadra che abbiamo affrontato, forse sì, il Genova si è reso molto più pericoloso, ma a livello di gioco, di occasioni e di coglioni che mi fate venire ogni partita che guardo, siamo sempre bloccati lì. Come vi dissi dopo la post partita di Genova-Milan, dove vi dissi che era una vittoria che doveva preoccupare, perché non è arrivata in modo chiaro, perché il Milan ha faticato per vincere mi avete riempito di insulti, ma Genova è un campo difficile, ma che pretendi, ma di qui, ma di là, e stasera siamo di nuovo a parlare dello stesso argomento, perché c'è purtroppo una buona feta di tifosi del Milan e purtroppo tanti di questi sono quelli che vanno allo stadio, pagano il biglietto e in un certo modo mascherano questa situazione molto grave che stiamo passando, che vincere bene o vincere male non importa, basta che si vinca, e gli anni mi hanno insegnato che non è mai così, vincere, basta vincere, basta che si vinca, non va bene. tu vinci bene quando vinci bene, tu convinci quando fai la partita dove non puoi recriminare niente a livello di gioco, e stasera purtroppo a livello di gioco possiamo recriminare tanto, tantissimo. partiamo dal gol fatto dalla Pulisic, gol su una cappellata di chi era tre soldi, che è una cappellata assurda, nonostante la palla di Mena Serfo fosse onestamente una buona palla, unico spunto no, perché il Milan poteva farne altri due o tre di gol, le occasioni le avute, i tiri pure, il problema è che non concretizza perché il Milan non ha una, filosofia di gioco, quando molti cervelloni come voi guardano cinque secondi di video e dicono, eh il problema sono i giocatori che sono sempre valutati, e cazzate varie, che dicono che sostanzialmente il problema non è più oli, io vi inviterei a guardare la partita di stasera, ogni squadra di serie A, e sottorino ogni squadra di serie A ha una filosofia di gioco, bella o brutta che sia, le due squadre che sono in cima alla classifica Tali, Internazionale e Juventus hanno una filosofia di gioco brutta, tutte e due, ma perlomeno ce l'hanno, tutte e due intanto non prendono gol, non li prendono, è che quella è già qualcosa, perché avere la filosofia difensiva, dare un senso alla retroguardia è già qualcosa, intanto magari senza riempirla fino all'orlo di infortuni, che quello è già il primo passo. Il secondo è dare un senso alla tua difesa, la difesa devi difendere meno se c'è un buon centrocampo che scherma, cosa che il Milan non ha nemmeno quello. Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, vogliamo dire che la Juventus si affida un po' più ai singoli, vogliamo dire che la Juventus molti gol li fa culo, guardate quello contro il Milan, possiamo dirlo se volete, possiamo dirlo. L'altra squadra invece gioca di contropiede, di palle lunghe, ma ragazzi funziona. A me il gioco di contropiede non mi è mai piaciuto, giusto su FIFA lo faccio, perché è l'unica cosa che funziona ancora in quel gioco, ma funziona. Perché chi è tifoso dell'Inter sa che quando la squadra parte in contropiede e sono 4 contro 3, 9 volte su 10 è gol. E non ci stanno cazzi! Il Milan quando parte un contropiede è anche 4 contro 1, quel difensore che rimane la fa franca. E stasera ne è stata la completa dimostrazione. non c'è la filosofia di gioco, al Milan ci si affida ai giocatori singoli, ci si affida la giocata di Leao, la giocata di Pulisec, la giocata di Calabria, questa sera la giocata di Benaser, coadjuvata dall'errore di 3 soldi. Si spera di non prendere i gol, si spera di non spaccare i giocatori, si spera di vincere le partite. Risultato? Sei praticamente quarto, perché questo è quello che ti meriti. Tutto questo pippone per dirvi che un allenatore che non crea una filosofia di gioco in una squadra come questa, come l'AC Milan, che ha avuto la squadra più forte della storia, deve essere esonerato. Punto. Spaccato tutto. Deve essere esonerato. E' il terzo ultimatum che becca. Il primo contro il PSG ha da mitta. La seconda ha dato l'ultimatum contro il Frosinone, che se c'ero anche io in panchina a Mian quella partita l'avrebbe vinta, e il terzo stasera. Però purtroppo, chi deve prendere la decisione se esonerare più olio o no, non le guarda le partite. Guarda solo i risultati, naturalmente apre lo scorso il telefono, o la squadra di cui sono proprietario ha vinto, o la squadra di cui sono proprietario ha perso. Perché questo fanno? Invece noi, che stiamo con gli occhi incollati sullo schermo tutto il tempo, ci rompiamo il cazzo. Almeno. Alcuni di noi. La gente obiettiva, la gente che sa che Mian ha bisogno di un cambio radicale sulla panchina e sulle idee di gioco. Ai tanti capisher che vengono a farmi la morale, a insegnarmi cosa devo pensare su Pioli, ve la metto su un piano molto, molto easy. che è... e Milano quando vince? Vince di misura. O pure sono squadrette dove le massacri Monza e Frosinone. Questo è il problema. L'allenatore. L'ho già spiegato molte volte, però siccome siete sempre di più e non mi sto rompendo il cazzo, davvero continuo a spiegare. L'allenatore non è un uomo che si siede sulla panchina e la scalda. L'allenatore, ragazzi, è una figura imprescindibile in una squadra. Perché se l'allenatore non contasse un cazzo, le squadre non avrebbero bisogno. Ogni squadra farebbe il cazzo che gli pare. Cosa che il Milan sta facendo. Un allenatore non fa solo le tattiche. Un allenatore non gestisce solo gli infortuni. Un allenatore fa anche altro. Un allenatore è motivatore. È la prima figura di riferimento per un calciatore. Si chiama coach in inglese. Coach che vuol dire anche... Coach è qualcuno che sta a capo di qualcosa. È come il preside a scuola. È come il vostro datore di lavoro. È quello che dirige qualsiasi cosa. È quello che fa la formazione, che continua ad adattare un terzino destro a sinistro, un terzino sinistro a centrale. E non far giocare a primavera. Poiché un paio belli promettenti ce l'hai e continua a non farli giocare. Questo è il coach della C Milan. Siete contenti del coach? Io no. Ha maggior ragione dopo stasera, dopo una vittoria che non sa di niente. Perché ragazzi credetemi che la vittoria di stasera è un mezzo pareggio. A livello di gioco è un pareggio pieno. Uno schifo assurdo. Una squadra che contro ti gioca male come il Sassuolo, perché il Sassuolo ha giocato male, ha avuto due e mezza occasioni tutta la partita. Tu la devi stendere 3-4-0. E non ditemi, ma il Sassuolo contro l'Inter a Milano ha vinto. Sti cazzi. Cazzi vostri. Cazzi loro. Ha battuto 4-2 la Juventus. Cazzi loro. Se il Sassuolo si presenta a Milano giocando come ha giocato contro l'Inter, ovvero che non li ha fatti giocare, si può aprire un altro discorso. Ma siccome così non è, siccome oggi il Sassuolo si è presentato giocando male, ha preparato la partita male, ha aspettato il Milan a oltranza dietro la valla, creando poco o niente a livello di occasioni, il Milan deve fare più gol. Questo è andato di fatto. Il Milan stasera doveva fare almeno due gol in più. E allora gli avremo parlato di partita fatta decentemente. Una partita buona, una buona prestazione. Però evidentemente ragazzi gli ultimatum non servono a un cazzo, perché magicamente quando l'ultimatum vince e noi giocheremo al bastone e la carota fino almeno a fine anno. Tre partite del cazzo, ultimatum, vittoria. Tre partite del cazzo, ultimatum, vittoria. Andremo avanti così ragazzi, perché voi credete che col Cagliari faremo una passeggiata quando è 2 gennaio la Coppa Italia? Credete che la domenica prossima ad Empoli faremo? Sarà come andare a giocare contro l'ultima squadra di terza categoria? non sarà così ragazzi. Toglietevelo dalla testa. Toglietevelo dalla testa. Dovremmo sputare sangue per fare altri tre punti qui. E questo già ve lo dissi contro il Genova e vi dissi ragazzi, la prestazione di stasera non ci siamo. Il Milan se vuole fare deve fare di più. Ma ovviamente quello che non capisce un cazzo sono io, però poi i risultati si vedono. Io non so cosa dirvi ragazzi. Se non che il futuro ci regala tante belle sorprese, spesso volentieri negative. Like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima che sarà una bella sfida di Coppa Italia ragazzi. Intanto vi ricordo domani mattina live reaction qua sul canale per chi fosse interessato. Che se anche non volete vedere Milan vincere, nel primo tempo ne abbiamo detto abbastanza. E a maggior ragione vi invito su Twitch dalla prossima partita. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione.